Buongiorno, è una bellissima giornata in questa zona. Grazie a Dio, in giorni come questi sono felice che siamo in California. Le ragazze hanno cantato bene, amen. Era molto bello. È bellissimo vedere ciascuno di voi. Voglio dare il benvenuto ai nostri amici. Sappiamo che abbiamo sempre tante persone che ci guardano live online o guardano le trasmissioni in differita. Abbiamo amici che ci guardano oltreoceano, sui social media, su varie reti satellitari. Voglio essere sicuro di salutarvi e pregare che Dio vi benedica. Il nostro messaggio di stamattina parla di nuovo del tema della salvezza. Potrebbe in realtà essere considerata la seconda parte di quello che abbiamo visto settimana scorsa, che parlava di quanto bisogna essere perfetti per salvarsi. Il messaggio di oggi è fede mortale o grazia salvifica. Fede mortale o grazia salvifica. Due grandi errori dai quali i cristiani devono stare in guardia. Uno è presumere che Dio sia così misericordioso e pieno di grazia da dare per scontato. Pensare di essere salvati anche se non lo siamo. Ricordate che abbiamo letto in Matteo, dove Gesù diceva che ci sarebbe stata una folla intera usando la parola molti. Se Gesù usa la parola molti, vuol dire molti, al contrario di pochi. Larga è la porta che conduce alla perdizione e molti sono coloro che entrano per essa. È la maggioranza. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi. Quindi Gesù dice, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, conoscono il suo nome, si aspettano di andare in cielo e lui dirà, non vi conosco. Non riesco a pensare a nulla di più agghiacciante. Forse è meglio credere di non salvarsi e salvarsi rispetto a credere di salvarsi e non esserlo. Sentire quell'affermazione terribile. Poi c'è un altro gruppo che vive nella costante paura per la loro salvezza. Non si godono nulla e rendono tutti coloro che hanno intorno miserabili. Non hanno pace né sicurezza. Ci sono questi due estremi, un po' come la salvezza per supposizione e la salvezza mediante le opere. E dobbiamo stare tutti in guardia su questo. Qual è l'equilibrio biblico per capire e sapere che non ci salviamo o non siamo ingannati da una fede che porta alla morte? Molte persone lo sono. Molti cari cristiani in circolazioni credono nel fatto che suppongono che sia sufficiente accettare Gesù e vivere nel peccato per salvarsi. Sapete, non tanto tempo fa, quando c'è stata la prima ondata di Covid, c'era la storia di uno che aveva cercato di uscire di prigione. Sapete che hanno rilasciato molte persone durante il Covid e un tipo, Robert R. Corny, era in prigione. Era un farmacista e era stato citato in giudizio nel 2005 in un caso, credo da 2 miliardi di dollari contro di lui e la farmacia per cui lavorava, perché diluiva le medicine contro il cancro, che erano molto costose. Aveva scoperto di poterle dividere a metà e intascare la differenza. Quindi le persone che avevano bisogno della giusta dose di medicina contro il cancro per salvarsi e molti che si sarebbero salvati sono morti, pensando di prendere la dose giusta, che era però diluita al punto da non avere efficacia. Avevano stimato che aveva fatto questa procedura a 4200 persone nell'arco di 10 anni, che voleva dire che era responsabile della morte di centinaia di persone in realtà per aver dato loro medicine diluite. Era sconvolto perché era sulla lista di chi doveva essere scarcerato per il covid. Non voleva prendersi il covid. Non voleva ammalarsi. Vedete l'ironia del destino? Protestava perché sarebbe stato esposto alla malattia. Lui che aveva diluito le medicine per gli altri. Sapete, ci sono tante persone che prendono il Vangelo diluito e non ci sono abbastanza ingredienti per guarirle realmente. Molti predicatori predicano un Vangelo diluito perché non vogliono ferire i sentimenti di nessuno. Ed è molto pericoloso. Ora, parleremo di sei aspetti diversi della fede. Parleremo della fede non curante, della fede cauta, della fede con delle condizioni, della fede perseverante, della fede che ha fiducia e della fede calma. Parliamo di cosa sia la vera fede che salva, di cui parla la Bibbia. Ci sono alcune persone in giro che credono in una forma di calvinismo che dice in pratica che una volta che si è salvati non si può più essere perduti. E uno scrittore ha detto, non dirò chi è, uno che penso che la maggior parte di noi riconosca, gli eletti di Dio credono che i salvati siano chiamati eletti. Gli eletti di Dio sono incondizionatamente al sicuro in Cristo. È impossibile che un vero credente diventi mai un non credente o un peccatore salvato che diventi non salvato, o un redento che diventi non redento o uno degli eletti di Dio che diventi non eletto. Se si insegna diversamente, non ha senso. La salvezza con delle condizioni o la grazia con delle condizioni è salvezza mediante le opere. E poi viene citato un versetto bellissimo, ma non è citato nel contesto o spiegato adeguatamente. La citazione, tutto quello che il padre mi dà, questo è Giovanni 6,37, verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Se si va da Gesù una volta a nove anni, se si va all'altare, si accetta Cristo, si prega la preghiera del peccatore, si è salvati, indipendentemente da quello che vi succede o da quello che fate o dalle scelte che farete nella vostra vita. Non sarete mai perduti, lo avrete sentito dire prima d'ora. Ne sarete sorpresi, forse il 50% di chi si professa cristiano evangelico crede ha una simile idea. Guardano anche Giovanni 6,39, è questa la volontà del padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Se leggete alcune di queste cose da sole e poi le fate spiegare a un predicatore in libertà, come gli pare, questo porta alcune persone a una scarsa comprensione di quello che implica la salvezza, ma ci serve il consiglio di Dio per intero. Amen. Non possiamo scegliere un versetto qui e uno lì. Se fosse vero che una volta salvati non si può essere perduti, basta andare una volta a pregare e ci si salva, indipendentemente da quello che succede. Ho sentito un pastore dire, beh sai, in paradiso ci sono vari livelli, sarai in paradiso, ma magari non così in alto, la ricompensa magari sarà un po' più piccola. Se accetti Gesù e vivi una vita malvagia, sarai lì, ma non avrai tutto il paradiso per l'eternità. È davvero quello che insegnano. Ora, se fosse vero sarebbe davvero fantastico. Sarebbe la cosa più fantastica sapere che indipendentemente da quello che facciamo, basta dire la preghiera e poi vivere per il diavolo, per il resto della vita e comunque ci si salva. Sarebbe anche l'inganno più terribile insegnare una cosa del genere. Quindi, una volta salvati, salvati per sempre? È vero? Una volta che si è salvati si può comunque diventare perduti. sapete, di tanto in tanto, quando siamo nella nostra casa in montagna a Covelo, non so se avete mai guardato su una cartina dov'è, ma periodicamente durante l'inverno arrivano persone che cercano di andare da Covelo a Redding o a Sacramento e sentono qualcuno che gli dice, da qui non ci potete arrivare. Perché una volta che si arriva, incontro persone ogni tanto che dicono Covelo, ci sono passato attraverso una volta. Rispondo, non ci sia mai stato. Non ci si può passare attraverso. È come la fine della strada, l'asfalto si ferma a Covelo. Magari avete sentito un nome come William Behrens, Harry Hudson, Vitus Bering. Perché sono familiari quei nomi? William Behrens, Henry Hudson, Vitus Bering, tutti e tre hanno degli oceani, dei mari o delle baie con il loro nome. Pensate al fiume Hudson, alla baia di Hudson, lo stretto di Bering, il mare di Bering. Perché? Perché hanno cercato tutti di passare attraverso il polo nord e sono morti nel processo. E migliaia di altri credevano che continuando ad andare a nord alla fine l'acqua sarebbe diventata calda, ma non è successo. Behrens ci ha provato tre volte. È stato perseverante, coraggioso, ma non ci si può arrivare, a meno di avere un sottomarino. Ora si può fare. L'idea che si può semplicemente accettare Gesù e poi vivere per il diavolo, continuando a vivere una vita di peccato, non è biblica. Non credeteci. Non è vero. Non voglio togliervi una sicurezza. Voglio che siate sicuri davvero. Amen. Apocalisse 3,5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Cosa implica questo? Perché Gesù dice che non cancellerà il suo nome dal libro della vita? Se si fa cosa? Se si vince. Voglio dire, se ogni giorno si combatte il peccato, se si lotta per distruggere la natura carnale e perseguire la natura spirituale, il vostro nome, non sarà cancellato dal libro della vita, perché il nome di qualcuno sarà cancellato dal libro della vita. Mosè disse, Signore, non distruggere Israele, cancella il mio nome dal tuo libro. E Dio ha detto, chi ha peccato contro di me, il suo nome sarà cancellato dal libro. Dio ha un libro. I salvati saranno nel libro della vita. I nomi possono essere tolti. Ha senso? Ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Seconda Pietro 2,20. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, qui parla di quelli che sono fuggiti per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima. Dice che è come un cane che torna al suo vomito o un maiale che si crogiola nel fango, descrive persone che erano salvate ma che sono ritornate indietro. Gesù non racconta la parabola del seminatore che semina il seme e una parte dei semi cade sul terreno e germoglia, ma siccome il terreno non è profondo, alla fine si secca o è soffocato dalle erbacce, ma aveva germogliato. Noi desideriamo il seme buono che porterà frutto. Prima Corinzi 6,9, questo è un bel versetto. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non mi ingannate. Nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, gli effemminati, negli omosessuali, non l'ho scritto io, prendetevela col Signore. Nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltraggiatori, nei rapinatori erediteranno il regno di Dio e continua dicendo, ortali eravate già alcuni di voi. Passato. Ci sono vari tipi di persone nella lista che si salveranno da queste cose e saranno nel regno. Ma continua dicendo che chi persevera in queste cose non ci sarà. Quindi se si prega e poi si vive secondo il diavolo, non funziona in questa maniera. Fatemi citare un paio di altri versetti. Devo guardare l'orologio e farò una corsa per capire quanti versetti posso condividere, perché ce ne sono centinaia su questo tema. Prima Corinzi 15, versetti 1-2. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto. Dice che hanno ricevuto il Vangelo e nel quale state saldi. Hanno ricevuto e sono saldi nel Vangelo e mediante il quale siete salvati. Notate questo verbo? Siete salvati. Si chiama santificazione. Se, sentite la condizione qui, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Bisogna essere salvati, stare saldi, ma bisogna farlo con fermezza. Amen. Ebrei, capitolo 3, versetto 12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Cosa implica, Paolo? È possibile allontanarsi? Dice che dopo essere andati da Gesù non vi viene tolta la libertà di scelta. Lui non vi lascerà mai andare, ma voi non perdete la libertà di lasciarlo andare. Giovanni 15, 2. Parlando della vite, ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota. Sono tralci in Cristo, ma sono senza frutto. Non hanno il frutto dello Spirito. Se siete cristiani, alla fine dovete sembrare cristiani. Ci dovrebbe essere gioia, amore, pace, pazienza, bontà, fede, mitezza e così via, giusto? Avrete sentito la vecchia espressione, se cammina come una papera, fa il verso della papera, se nuota come una papera, se vola come una papera, cos'è? Una papera. E quindi i cristiani non possono dire sono cristiano, ma non praticante. Una volta uno me l'ha detto. Sono cristiano, solo che non pratico. Non esiste un animale del genere. Magari sapete qualcosa su Gesù. Un altro mi ha detto, sì, sono andato in chiesa da piccolo a una croce appesa allo specchietto in macchina che mi tiene al sicuro quando sono ubriaco e guido. Non funziona così. O seguite Gesù e i Suoi insegnamenti o no. O vi affidate a Lui ed è il vostro Signore e Lui conduce le danze o no. La Bibbia dice che o Lui regna nel nostro cuore o lo fa il peccato. Non si possono avere entrambe le cose. Quindi questi versetti sono ben chiari. Dobbiamo avere fede, siamo salvati mediante la fede, ma ci serve una fede realistica e cauta. Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Lo stiamo facendo in parte ora. Cosa implica? Parla alla Chiesa. Esaminate voi stessi una volta o di tanto in tanto. Bisogna controllare e dire sono ancora nella fede. Non vuol dire passare tutto il tempo a guardarvi l'ombelico. I cristiani dovrebbero guardare Cristo, ma ogni tanto bisogna dire, oh i frutti, c'è qualcosa che non va nella mia vita. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Paolo lo chiarisce meglio che può. Ogni tanto dobbiamo valutare se stiamo crescendo e seguiamo il Signore. Ebrei 4.1. Perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resti escluso. Ora, la Bibbia parla di non aver timore e qui dice di avere timore. Giobbe era un uomo che temeva Dio. Lo abbiamo citato la puntata scorsa. Un uomo perfetto e integro che temeva il Signore. Quindi dobbiamo vivere nel timore o nella pace. Fatemi vedere se riesco a spiegarvelo con un paio di esempi, magari. Ho sentito una storia di una signora e della sua famiglia. Erano in Florida e stavano visitando una villa antica. Sono entrati nella camera da letto del padrone. Era una villa antica, decorata benissimo e sul copriletto era scritto, mi raccomando, lavate subito le mani con cura dopo averlo toccato. E le tende avevano una piccola spilla di lato che diceva, mi raccomando, lavate subito le mani con cura dopo aver toccato. Quindi ovviamente non hanno toccato nulla. Mentre stavano andando via ha chiesto al tipo, con che sostanze chimiche sono trattate queste cose? Lui ha sorriso dicendo, non sono trattate con nulla. Abbiamo scoperto che dicendo non toccare il copriletto non funzionava. Ma se le persone pensavano ci fosse qualche sostanza radioattiva sul copriletto non lo toccavano. Ha aggiunto, la paura fa bene. Se mettete un cartello in una sala con scritto, pittura fresca, sapete cosa fanno i bambini? È ancora fresca? Vero? È la natura umana. Quindi questo non era il mio esempio. Ecco il mio esempio. Qualcuno di voi ha mai provato la zipline. La zipline. Sì, è diventata di moda negli ultimi 30 anni. Karen e io e i ragazzi l'abbiamo fatto qualche volta. Ricordo una volta che l'abbiamo fatto in Messico, un paio di anni fa. È stata l'ultima volta che l'abbiamo fatto in Guatemala, in vari posti. Gianni, il Pastor Ross e io siamo stati in Sudafrica e siamo stati sulla zipline più veloce al mondo. Così veloce che si indossa un paragadute. sì, è davvero ripida. E senza paracadute, se si perde il paracadute, si fa un grosso splash quando si atterra. È divertente, è esilarante. Si può fare la zipline nella foresta pluviale del Messico e quando si va, vi fanno sedere. Vi danno un imbrago, vi danno dei guanti, vi danno un caschetto, vi dicono cosa togliere dalle tasche, vi fanno vedere un video e vi fanno un briefing sulla sicurezza. Poi girano tra tutte le persone per essere sicuri che l'imbrago sia messo correttamente e poi si salta dalla piattaforma a bocca aperta sulla foresta pluviale, affidandovi a quel cavetto affinché vi porti dall'altra parte. Ed è bello fluttuare nell'aria guardando la foresta pluviale, è uno scenario bellissimo e mi è piaciuto. Ho avuto un po' di paura, ma il divertimento è stato molto, molto di più. Si possono equilibrare queste due cose nella vita, giusto? So che se seguo le istruzioni della guida, se indosso i guanti, ascolto attentamente, guardo il filmato e mi metto il caschetto, mi metto l'imbrago ed è tutto controllato e mi assicuro sempre che qualcuno di più pesante di me vada per primo, cerco tra i turisti e dico Karen, andiamo dopo di loro. Se ce la fanno loro, ce la faccio anche io. E poi ci si diverte, vero? Nella vita serve una certa dose di paura. Io non ho paura quando guido, ma ho abbastanza paura se vedo un cartello che dice, curva stretta, 30 chilometri all'ora. Rallento perché so quali sono le conseguenze. Ma non ho paura di guidare, ma bisogna avere paura del peccato, perché il peccato è mortale. E sapete, è insidioso. E quindi c'è questo equilibrio nella vita cristiana in cui queste due cose coesistono. Si può avere la gioia del Signore e una sana paura di Dio e paura del peccato. Amen? Quindi esiste una fede cauta. Apocalisse 2,10. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Dice di essere fedeli per dieci minuti? Vediamo se siete fedeli per tutta la funzione in chiesa. Sii fedele fino alla morte. Per quanto? Chi avrà perseverato? Fino a quando? Fino alla fine? Sarà salvato. Chi è salvato? Non si persevera solo una volta. È un processo in cui si rimane col Signore. Amen? Ha senso? E la fede, la vera fede, è una fede con delle condizioni. Vi ho letto questo versetto, ma voglio leggervelo ancora una volta. Prima Correnzi 15, versetti 1-2. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto. E nel quale state salvi e mediante il quale siete salvati. Se vi sembra una condizione? Se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato. A proposito, Giovanni 3,16. Ha una condizione. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca. Affinché chiunque cosa? Creda. Sapete cosa vuol dire credere? Seguire la sua parola, i suoi insegnamenti. Potete dire che credete in Gesù, ma non prestare attenzione del tutto a niente di quello che ha insegnato. Quindi credere vuol dire vivere in Lui. Amen. Ebrei 3,6. Ma Cristo, come figlio, lo è sopra la propria casa e la sua casa siamo noi. Se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Se riteniamo ferma fino alla fine. Vi sembra che sia una volta salvati per sempre salvati? O dobbiamo continuare? Dobbiamo continuare ad andare avanti. Dobbiamo mettere mano all'aratro e non voltarci indietro. Prima Giovanni 1,7. Ma se camminiamo nella luce, sentite la condizione? Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Essere cristiani è un cammino quotidiano. E se ogni giorno ci svegliamo dicendo camminerò col Signore, se perdete un giorno non vuol dire che vi perdete per sempre. Non è un giorno occasionale, non vuol dire che non ci possono essere problemi. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, quando abbiamo visto che Dio ha detto che c'è un problema cronico nell'uomo, che siamo attaccati, tentati, ci scoraggiamo. Spesso cadiamo. Magari dobbiamo spesso pentirci e piangere ai piedi di Gesù, ma si continua ad andare avanti. Amen. Romani 11, 22 Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti, e la bontà verso di te. Seppure perseveri nella bontà, vi è chiaro, altrimenti anche tu sarai reciso. Non è chiaro? Vi sembra la salvezza una volta per tutte? Sapete essere cristiani è come essere sposati. Non è uno sprint, è una maratona. Posso avere un amen? Bisogna continuare e proseguire. Sempre. Se perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Anche questa è una buona notizia. Anche quelli che si sono allontanati, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati di nuovo. Apocalisse 2, 5 Ricordati dunque da dove sei caduto, rabbiditi e fa le opere di prima. Sta parlando alla Chiesa qui, in Apocalisse capitolo 2. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti rabbidi. Se si vive nel peccato e non ci si pente, la Bibbia dice in Ebrei, capitolo 10, versetto 26, infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Pastore Dug, tutti pecchiamo dopo aver ricevuto la conoscenza. La parola peccato qui vuol dire se perseveriamo in una vita di peccato. È un verbo che va avanti. Se perseveriamo nella vita di peccato, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Non si può solo dire grazie per la salvezza e continuare a vivere per il diavolo. Ci sono così tante persone che lo fanno dicendo di schierarsi dalla parte di Cristo. Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 27. Anzi, disciplino il mio corpo. Parla Paolo. E lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Paolo dice il dover disciplinare il suo corpo quotidianamente. Quanti di noi sanno che è vero? E lo riduco in servitù alla volontà di Dio, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Dice che dobbiamo seguirlo in modo coerente. Quanti di voi ricordano la parabola di Matteo 18, del debitore spietato a cui viene perdonato il suo enorme debito? Tipo 10.000 talenti. Gli viene perdonato. Era stato perdonato. Il re aveva scritto perdonato accanto al suo nome, ma poi è uscito e non ha condiviso il perdono con l'amico servo e il suo perdono è stato invalidato. È stato revocato. Quindi non basta solo andare dal Signore, essere perdonati e salvati. Se poi ci rifiutiamo di vivere una vita cristiana e seguire i Suoi insegnamenti, magari veniamo a un certo punto giustificati. Ma la giustificazione evapora se non si segue poi con la santificazione. I figli di Israele furono salvati dall'Egitto per il sangue dell'agnello. Li ha portati nel deserto e ha detto loro, vi ho salvati. Ecco la mia legge. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi si è rifiutato di obbedire è morto nel deserto. Non è così? Quindi, prima ci salva, ma poi ci porta fuori e ci dice, guarda, ora ti ho dimostrato il mio amore per te. Se mi ami, osserva i miei comandamenti. E la fede cristiana è una fede perseverante. Lo abbiamo già detto in un certo senso. Giacomo, capitolo 1, versetto 25. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un cosa, facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Io voglio essere beato e voi no. Quindi non basta essere uditori. Dice che bisogna udire e poi fare. Gesù ha detto, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. E non sto insegnando la salvezza con le opere. è in segno che se davvero abbiamo fede, si vedrà dalle nostre opere. Ed è una cosa che continua. Dio non si aspetta che sappiate tutto in un giorno. La Bibbia dice che dobbiamo imparare a fare il bene e smettere di compiere il male. La santificazione è un processo che si apprende. Dio lavora ogni giorno per salvarci, per insegnarci, ma noi dobbiamo collaborare. Amen. E dobbiamo avere il desiderio di fare progressi. Se c'è qualcosa che vi infastidisce e non la risolvete, non farà bene alla vostra anima. E voglio sottolineare, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, magari facciamo lo stesso errore tante volte e pensiamo che Dio si stanchi a sentirci pentire dello stesso problema, ma non è così. Vuole perdonarci volontariamente, è paziente. Amen. Abbonda di misericordia e perdono. Il problema è che possiamo indurire il cuore non prendendo sul serio gli argomenti. Tutti conosciamo delle persone da anni e sappiamo che dicono oh, devo fare davvero qualcosa per la mia alimentazione, devo davvero fare qualcosa, devo curarmi di più della mia salute, ma non fanno nulla. Tornano a casa dal dottore e ricevono la notizia di avere un tumore al secondo stadio e improvvisamente sono incredibilmente motivati a fare finalmente qualcosa. Non aspettate che Dio debba fare una cosa del genere per avere la vostra attenzione. Si può fare molto di più di quanto si pensi se si è motivati. È incredibile. quanto sia facile resistere alla tentazione se è in gioco la vita. Penso che noi supponiamo che ci sia la misericordia di Dio e questo è il pericolo. Ci serve una fede perseverante. Voglio leggervi una cosa dal libro di Ezechiele. Andate con me a Ezechiele capitolo 18. Sapete, questo profeta è un profeta dell'Antico Testamento e ha una buona conoscenza della teologia del Nuovo Testamento. Vi consiglio tutto il capitolo ma non abbiamo il tempo di leggerlo ora ma va avanti e indietro spiegando chi è salvato e chi è perduto. Non serve andare al college o al liceo per capirlo. Tutti possono capire cosa ha scritto questo brillante profeta e sacerdote. Dice, nel versetto 21 di Ezechiele 18 se però l'Empio si allontana da tutti i peccati che commetteva se osserva tutti i miei statuti tutti i miei statuti e pratica l'equità e la giustizia egli certamente vivrà non morirà se è chiaro dite Amen. Versetto 24 Ma se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità era giusto ma è caduto e imita tutte le abominazioni che l'Empio fa vivrà forse costui tutta la giustizia che ha compiuto non sarà più ricordata per la trasgressione che ha compiuto e per il peccato che ha commesso egli morirà a causa di essi la Bibbia dice in modo ben chiaro che non è una cosa di una volta sola ma è un affidamento continuo per seguire il re Amen e poi Dio dice nel versetto 23 Provo forse piacere della morte dell'Empio dice il Signore l'Eterno e non piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva poi prosegue dicendo convertitevi dalle vostre vie malvagie perché mai dovreste morire ve ne dico un altro dell'Antico Testamento aprite con me il libro di Zaccaria c'è della grande teologia qui capitolo 3 libro di Zaccaria se è riuscito ad arrivare a questo profeta minore pochi profeti prima del Nuovo Testamento con parole semplici non posso darvi il numero di pagina perché abbiamo tutti bibie diverse e va bene così Zaccaria capitolo 3 poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè il sacerdote rappresenta il popolo intercede per loro è una visione che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno era forse il Cristo preincarnato chiamato angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo l'Apocalisse dice che Satana è l'accusatore dei fratelli accusa il sommo sacerdote l'Eterno disse a Satana ti sgridi l'Eterno o Satana sì l'Eterno che ha scelto Gerusalemme ti sgridi non è forse costui un tizione strappato dal fuoco in altre parole lo ha salvato dalla distruzione o Giosuè era vestito di vesti sudice i sacerdoti non dovevano avere vesti sudice e nemmeno i cristiani dovrebbero avere il manto della giustizia di Cristo ecco perché il diavolo lo stava accusando per i suoi peccati ecco cosa rappresentano le vesti sudice tra l'altro i redenti sono vestiti di vesti bianche nell'Apocalisse quindi sono simboli di giustizia e di peccato Giosuè è vestito di vesti sudice e stava ritto davanti all'angelo il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti ipotizziamo che sia Cristo che parla agli angeli davanti a lui toglietegli di dosso quelle vesti sudice poi disse a lui guarda ho fatto scomparire da te la tua iniquità cosa rappresentano le vesti sudice l'iniquità quanti vogliono che sia rimossa l'iniquità ho fatto scomparire da te la tua iniquità e ti farò indossare abiti magnifici gli angeli gli avevano messo addosso abiti magnifici io quindi dissi mettano sul suo capo un turbante puro a proposito il turbante del sommo sacerdote aveva una piccola placca d'oro che diceva santità all'eterno mettano sul suo capo un turbante puro così essi gli misero in capo un turbante puro gli fecero indossare delle vesti mentre l'angelo dell'eterno era là presente e l'angelo dell'eterno ammonì solennemente Giosuè sta ammonendo il sommo sacerdote il sommo sacerdote chi aveva appena ricevuto vesti nuove dicendo così dice l'eterno degli eserciti se camminerai nelle mie vie sembra avesse una scelta vero? se camminerai nelle mie vie e osserverai la mia legge anche tu governerai la mia casa e custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui parla di un regno celeste in cui si parla e si vive con gli angeli gli dice ti darò delle vesti nuove ti salverò la tua iniquità è stata portata via sei rivestito di un manto di giustizia ma ora devi camminare nelle mie vie e osservare i miei comandamenti amen? quindi c'è ancora una gran parte del mondo cristiano che è confusa su questo tema ci serve una fede che persevera ci serve una fede che ha fiducia Dio non vuole che viviamo nel timore cosa dice Paolo verso la fine 2 Timoteo 1.12 perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno lo so prima Giovanni 5.13 ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del figlio di Dio Dio vuole che abbiamo fiducia come possiamo incoraggiare altra gente sulla gioia della vita cristiana se viviamo sempre nel dubbio di non farcela vero? devono vedere in voi che sì funziona posso testimoniare che funziona che ho pace speranza ho un futuro so chi ha il controllo della mia vita e quindi serve avere quella fiducia quella pace e avrete una vita molto più produttiva ricordo di aver sentito in realtà stavo leggendo un libro di J.I. Packer che raccontava la storia di un ricco possidente terriero che verso la fine della sua vita voleva fare una cosa bella per i suoi servi aveva dei servi che avevano lavorato fedelmente possedeva molta terra e disse ehi ragazzi ho una villa bellissima avete lavorato per me voglio che possiate costruire la vostra casa darò a ciascuno una porzione di terreno al confine della mia proprietà ciascuno avrà 20 acri e io mi occuperò dei lavori ma è vostra uno di loro era così contento che andò a vedere la terra che era già stata suddivisa per lui e iniziò a tagliare alberi a costruire la casa a piantare i campi e la sua famiglia e sua moglie erano felicissimi raccontavano a tutti i vicini che padrone fantastico avevano per cui avevano lavorato l'altro tipo disse sono stato in tribunale non hanno ancora elaborato l'atto alla fine l'atto venne elaborato e disse devo portarlo a un avvocato e farlo controllare e passò tutto il tempo a pensare a un secondo fine chissà come mai deve esserci qualcosa qual è l'inghippo perché mi ha dato questa proprietà e non si fidò mai davvero che fosse sua e alla fine dell'anno chi pensate avesse la casa e i campi migliori e una terra più produttiva quello che aveva creduto e agito di conseguenza o quello che aveva sempre dubbi sullo schermo avete un'immagine del Golden Gate Bridge quando è stato costruito il Golden Gate Bridge all'inizio della costruzione morirono 20 uomini è un punto molto insidioso se ci siete mai stati in quella zona ci sono tempeste può diventare molto ventoso molto freddo e questi uomini erano in alto sul ferro umido con la nebbia erano scivolati e morti nella caduta ebbero un'idea dobbiamo fare qualcosa per proteggere questi ragazzi un tipo di nome Strauss capo ingegnere fu quello che disse dobbiamo dargli dei caschetti fu il primo a dare loro dei caschi fece indossare occhiali diede loro una crema solare perché si scottavano per il sole e il vento lassù iniziarono a usare attrezzature di sicurezza e alla fine spesero 100.000 dollari e costruirono una rete se vedete bene si vede la sezione del ponte e la rete appesa lungo tutto il ponte il primo che cadde nella rete fu un tipo di nome Al Zampa tutti quelli che caddero nella rete furono chiamati il club a metà strada verso l'inferno Al morì nel 2020 a 95 anni aveva aiutato a costruire il Golden Gate Bridge il Carcines Bridge ha lavorato sui ponti fino ai 65 anni gli piaceva diceva che era un duro lavoro ma gli piaceva stare all'aperto e l'adrenalina di tutto quanto ma la cosa interessante secondo lui era che ci furono 10 uomini salvati dalla rete che caddero qualcuno si ferì quando colpì la rete ma sopravvisse e disse che la cosa incredibile fu che quando fu messa la rete la produttività aumentò del 25% perché gli operai avevano fiducia ecco perché ho passato un paio di settimane a parlare del fatto che dobbiamo avere fiducia di farcela si rifà tutto al fatto che pensate che sia più grande il diavolo o Gesù siamo più preoccupati di quello che farà il diavolo con la nostra vita o abbiamo più fiducia di quello che può fare Gesù con la nostra vita ci sono davvero solo due scelte Gesù ha detto colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede e ho pensato che fosse interessante che Alzampa fu il primo a cadere nella rete e l'ultimo a morire Dio vuole che abbiamo una fede calma Romani 5.1 giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore potete dire Amen ci sono cose che Dio ci dice di evitare e magari ci sono elementi di paura ma non vuole che viviamo nella paura vuole che viviamo in cosa? nella pace è il principe della pace Paolo ci dice che Dio ci dona una pace che sopravanza ogni intelligenza io non voglio la falsa sicurezza che una volta che siamo salvati siamo salvati per sempre se non è reale voglio la sicurezza vera sulla base degli insegnamenti di Gesù ed è ciò che il Signore ci offre l'ho già visto all'aeroporto ve l'ho già raccontato in passato lo si vede tra chi ha il volo confermato e chi è in stand by chi è in stand by sa che a volte è in stand by e guarda l'aereo decollare e spesso vagano per il gate mentre c'è l'imbarco e si vede che quasi contano le teste dicendo oh accidenti questo volo sembra pieno non so se ci sarà spazio vuoto pregano che qualcuno cancelli o arrivi tardi in modo da lasciar loro spazio non sembrano per nulla in pace ma quelli che hanno il biglietto col numero di posto in mano sono seduti hanno le cuffiette leggono si mettono comodi controllano l'orologio guardano quando inizia l'imbarco un atteggiamento del tutto diverso Dio vuole che abbiate quel tipo di pace e fiducia ma non una presunzione sconsiderata ora ognuno esamini se stesso se è nella fede e se c'è questo equilibrio di cui abbiamo bisogno in un certo senso potrei spiegarlo con una storia una storia vera l'anno scorso Karen ha avuto un compleanno importante lascerò a lei decidere se vuole dirvi quale ma ha avuto un compleanno importante quindi ha detto voglio andare a vedere le piramidi sua madre e Steven erano stati in Egitto avevano visto le piramidi l'anno prima e quindi le ho detto certo tesoro andiamo andremo in Egitto e siccome in Egitto ci sono tra le immersioni più belle al mondo nel Mar Rosso volevo andare a fare immersioni anche Karen quindi ci siamo incontrati con altri credenti siamo saliti su una barca da cui si fanno immersioni nel Mar Rosso ed è stato bellissimo ci è piaciuto tantissimo non le piramidi più di tanto ma le immersioni sono state davvero fantastiche e ho avuto un'esperienza ai confini con la morte quando si va sulla barca ci sono i sub e qualche divemaster l'equipaggio il capitano si va in posti diversi e si fa immersione ma ci sono dei gommoncini sulla barca principale dei gommoni a motore sto cercando di ricordare il nome Zodiac si chiamano Zodiac e vi portano alla barriera corallina nel bel mezzo del mare con l'attrezzatura da sub vi fanno scendere e dicono beh scendete la profondità qui è 300 metri ecco il piano dell'immersione nuotate poi risalite e ci rivediamo a qualche chilometro di distanza o quello che è l'abbiamo fatto varie volte davvero bellissimo in una delle prime immersioni ho avuto davvero un problema da un lato ero uno dei più vecchi a bordo non ricordo di non aver saputo nuotare sono sempre stato un ottimo nuotatore ho medaglie di nuoto militari ho sempre nuotato fatto immersioni mi sento davvero a mio agio in acqua mio papà aveva una piscina e quindi sono entrato in acqua e mi sono reso conto che quando cercavo di tornare in superficie dopo una delle prime immersioni avevo davvero difficoltà fatemi spiegare un attimo una cosa sull'attrezzatura da sub ci sono le pinne la maschera il tubo poi c'è un giubbotto pensatelo come un giubbotto di salvataggio ma si gonfia e sgonfia si chiama G-A-V giubbotto ad assetto variabile e quindi quando si fanno immersioni e si ha la bombola pesante si scende come dei sassi se non c'è nulla che vi tiene a galla quindi c'è la bombola con l'aria che è fatta di metallo e il resto dell'attrezzatura si schiaccia un pulsante si riempie d'aria e questo vi fa galleggiare si rimane in superficie beh circa dieci anni fa un mio amico mi ha dato tutta la sua attrezzatura da sub dicendomi di averla usata pochissimo e ho pensato fantastico avevo in mente di usarla prima o poi l'ho mandata a Nathan perché la usasse non so se l'abbia mai usata quindi l'avevo rimessa a posto in mansarda non mi era mai venuto in mente che stando in mansarda a 50 gradi nelle stati di sacramento per diversi anni avrebbe avuto qualche ripercussione mi sembrava che andasse bene quindi in una di queste prime immersioni sono quasi annegato perché quando tutti stavano tornando alla barca facevo fatica a risalire si mettono anche dei pesi di piombo su una cintura quindi avevo i pesi avevo la bombola e continuavo a mettere aria nel GAV e non mi aiutava continuavo a tirare calci per cercare di arrivare in superficie facevo fatica tiravo calci con i piedi con le pinne per cercare di arrivare su tutti erano arrivati alla barca tranne me e il tipo dell'equipaggio mi ha detto tirami le pinne non puoi salire con le pinne ho smesso di scalciare per togliermi le pinne avevo solo una pinna e sono sprofondato di 4 metri ho scalciato con l'altra per tornare su ho lanciato una pinna mi sono abbassato per cercare di lanciare l'altra pinna e quindi non avevo più nessuna pinna e non riuscivo a tirarmi su in superficie scalciavo con tutta la mia forza e pensavo di essere un buon notatore cercavo di arrivare in cima alla fine ce l'ho fatta e pensavo di morire un sub esperto sa che tutto quello che bisogna fare è slacciare la cintura e far cadere i pesi e se non basta si toglie il G.A.V lo si fa cadere e ci si salva la vita ma quella roba costa non volevo perderla quindi sono quasi morto voglio dire ero pronto a morire mi sono tirato su e ho sollevato la mano e il tipo l'ha presa mi sono tirato su e gli ho passato le pinne mi ha messo in barca ha preso il retro del mio G.A.V tirandomi e sono caduto dentro la barca e dal mio giubbotto è uscita un sacco di acqua i sigilli erano saltati invece che essere pieno di aria era pieno di acqua e non galleggiavo mi sono reso conto che wow sono stato davvero sciocco ora fatemi dire una cosa è giusto dire sempre che siamo salvati? dipende dipende con chi parlate è uno di quei casi quando il tipo mi ha tirato sulla scialuppa ho detto grazie a Dio mi sono salvato non ero ancora nella barca grande se avessi voluto sarei potuto risaltare in acqua o potevo essere buttato in acqua sì nelle onde sì ma per quanto mi riguardava ero stato salvato stavo affogando e ora ero nella barca capite cosa voglio dire? non vuol dire che non possiate essere mai perduti capite cosa voglio dire? quindi da cristiani quando vi rivolgite a Gesù vi salva la vostra vita è diversa eravate morti siete vivi siete una nuova creatura ci sono così tante cose diverse siete salvati in questo senso ma non dite che siete salvati come direbbe un calvinista o un battista che vuol dire che non possiate più essere perduti che è tutto finito anche Paolo ha detto fratelli non ritengo di avere già ottenuto il premio ma faccio una cosa proseguo la corsa amen alla fine la barchetta è tornata alla barca grossa ed ero così grato che ho scambiato il mio GAV con qualcun altro gli ho detto che aveva qualche problema gli ho fatto uno sconto vi dico amici so cosa vuol dire riporre fiducia in un giubbotto che non funziona un giubbotto di salvataggio che non va molte persone ripongono fiducia in una salvezza che non li salverà quando sono in acque profonde bisogna sapere cosa è verità e che la nostra fede si basa sulle promesse di Dio nella sua parola amen in Cristo quante cose posso posso ogni cosa in Cristo e Gesù ci può salvare se teniamo gli occhi fessi su di Lui il Signore è la nostra luce amen Padre d'amore grazie per le promesse contenute nella Tua parola che possiamo avere una fede calma fiduciosa perseverante Signore aiutaci a ottenere quello che è vero per poterci fidare della Tua parola che dice che in Cristo sappiamo che tutti i nostri peccati possono essere lavati via che possiamo essere giustificati e rafforzati per vivere una nuova vita ti prego Signore di stare con ciascuno se ci sono degli ambiti nella nostra vita in cui dobbiamo affidare o presentare qualcosa perdona i nostri peccati Signore salvaci dai nostri peccati ti prego che possiamo essere buoni rappresentanti di Gesù benedici la Chiesa e aiutaci nelle difficoltà dacci il tuo spirito rimani con noi in questo sabato ti ringraziamo e preghiamo nel nome di Cristo amen grazie a tutti i nostri peccati grazie a tutti i nostri peccati